Hey, ciao, sono Michaela, eccomi qui con voi, sempre nella sfera delle relazioni, a parlare di cosa fare, cosa fai quando lui ti chiede una pausa, quando lui ti dice che ha bisogno di una pausa per chiarirsi le idee, perché non è sicuro di quello che vuole, non è sicuro di quello che vuole dalla vostra relazione, ha tanti dubbi sulla vostra relazione, su di te, ed è devastante sicuramente perché non te l'aspettavi, perché magari dici ma ieri abbiamo cenato insieme, non mi ha detto nulla, siamo stati pure bene ieri insieme e anche se dentro, dentro di te sai che comunque la relazione non è più come una volta, però comunque pensavi che siete una squadra e affrontate tutto insieme e non te l'aspettavi che lui ti dicesse questo, anzi pensavi che fosse l'uomo con cui avresti trascorso tutto il resto della tua vita. Il cuore ti batte a mille, ti panichi e non sai cosa fare, non sai cosa dire e ti senti pure che vuoi lottare per questa relazione, ma lui no, non è più disposto. Allora la prima cosa da fare è di cercare di ritrovare la calma, cercare di ricomporti ad essere razionale, molto importante, anche perché lui avrà i suoi motivi, potrebbe essere che si sente stanco, un po' stanco in generale, lavoro, tutto, un po' frustrato, stressato e vuole staccarsi un attimo, vuole staccarsi per poter pensare in modo limpido e chiaro, oppure magari potrebbe pensare che c'è un'altra persona e vuole magari una pausa per capire un po' meglio la situazione, oppure è stufo di questa relazione, è stanco perché tante cose non vanno bene, non è più quella relazione che lui desiderava, però vuole testare un po' le acque perché da una parte magari vuole staccarsi da te, però non sa come si sentirà da single, non sa come sarà quando sarà da solo, che non avrà più intorno a lui te, scegli questa via di mezzo, la pausa, perché appunto non sa come andrà con la sua vita dopo, oppure magari pensa a te che magari per non dirtela dall'inizio che vuole rompere, vuole interrompere questa relazione, ci tiene a te per non ferirti troppo già subito, preferisce dirti che vuole una pausa e poi pian piano lentamente arrivare alla rottura definitiva. E nella mia opinione, proprio in questo preciso momento in cui ti dice che lui vuole una pausa, con tutta la calma, con tutta la tranquillità e razionalità che trovi dentro di te, gli devi chiedere perché vuoi una pausa, perché appunto se è una relazione che dura da anni, merita anche un po' di tempo e un po' di impegno da parte tua per capire un po' cosa è successo e anche per capire un po' se è una cosa che dipende anche da te, bisogna capire subito in quel momento se lui ti vuole coinvolgere ancora nel risolvere il problema oppure no, anche perché può essere doloroso, però vedendoti calma, tranquilla in quel momento in cui lui ha scelto di dirti che vuole una pausa, può darsi che anche lui è onesto e ti dice che sì, non sei tu quella con cui io voglio trascorrere tutta la mia vita, punto. È meglio saper subito, piuttosto che mesi, mesi di attese, di incertezze con te che non sai qual è la tua posizione in quella relazione, è meglio saper subito adesso. Se capirai invece che non fai più parte del team, allora la risposta può essere questa, capisco il tuo disagio, capisco che tu vuoi una pausa, ma la mia definizione, il mio concetto di pausa è la separazione definitiva, perché ti puoi permettere ad aspettarlo? No, non puoi aspettarlo, non puoi aspettare per capire come si sente lui da single, non puoi permetterti di aspettare per capire come si sente lui senza di te, per capire come sta con questa nuova persona che ha conosciuto, perché magari c'è una persona nuova che ha conosciuto ed è lei il motivo per chiedere la pausa. Non puoi aver tempo per aspettare e capire come si trova lui dopo di te, il tuo tempo è prezioso e se lui ha dei dubbi e non ti vuole coinvolgere e non ti considera più parte della squadra, per te deve essere finita qua. Resistere poi, non so, porti, pregarlo di non andarsene, è inutile, è vietato quasi direi, non farlo perché rafforzerebbe questa sua idea di fuga e diventerebbe sempre più claustrofobico questo spazio che lo stringe sempre di più, anzi usa il no contact, sparisci della sua vita, non rispondergli più ai messaggi, alle chiamate dal momento in cui decidete di separarvi, perché ovvio per lui è semplice magari lasciarti così pian piano, lentamente, perché è confortevole per lui sapere che in qualsiasi momento tu gli rispondi al suo messaggio, magari è confortevole sapere che tu ci sei comunque, quando le cose magari non vanno bene per lui e non dico di usare questa cosa come una strategia per farlo tornare indietro, assolutamente no, ma per concentrarti su di te, perché adesso è il momento di amarti ancora di più, perché devi imparare anche a star dentro a questa situazione dolorosa, a questa nuova esperienza, perché solo attraversando questo periodo doloroso puoi rinascere, puoi ricomporti. Le donne di valore non trovano tempo per aspettare nessuno e magari, non so, ci vorranno due mesi, sei mesi, nove, dodici mesi per toglierti questo peso che hai sul cuore, però credimi che è meglio lasciare andare, è meglio non accettare mezze misure, è meglio rinascere da sole, piuttosto che stare intorno a delle persone che non si fidano, non ci credono in te, non ti amano abbastanza, non ti valorizzano. La gente va e viene nella tua vita, però il tempo no, il tempo è limitato e credimi che sarai ok e sarai ancora meglio di prima e sarai amata e amerrai ancora, però non sprecare il tempo con chi non apprezza e non valorizza il tuo tempo. Concluderei qui, vi ringrazio tantissimo che trovate sempre tempo per guardare i miei video, se vi è piaciuto il tema fatemi sapere e lasciatemi un like, se vi siete trovati in qualche modo mossi da queste dinamiche durante il vostro percorso di vita, fatemi sapere che io vi aspetto nei commenti, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora, io nel frattempo vi aspetto con altri argomenti nuovi e interessanti. Alla prossima, ciao!